La delicata vicenda del caro energia sta portando come facilmente prevedibile ed inevitabili conseguenze anche sui bilanci degli enti. A Giulianova ad esempio l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere e rinviare a data da destinarsi le prove dei concorsi pubblici banditi dall'ente. Questo perché gli uffici preposti vogliono avere un quadro dell'incidenza degli aumenti in corso prima di prevedere nuove spese per il personale nel futuro bilancio. Una condizione su cui il presidente di Ancia Abruzzo, Gian Guido Dalberto, è tornato a chiedere un intervento ben delineato e tempestivo da parte del governo. Ci sono tanti altri comuni che non riescono a chiudere i bilanci e questa è una situazione insostenibile perché si mettono a repentaglio i servizi e quindi i diritti dei cittadini e soprattutto in un momento nel quale i comuni dovrebbero essere messi tutti in condizione di poter lavorare per spendere ad esempio le risorse del PNRR e mettere in discussione la stabilità dei bilanci e quindi la stabilità degli enti è una scelta assolutamente inaccettabile che dobbiamo assolutamente superare come Anci stiamo lavorando a livello nazionale e anche a livello regionale perché il governo inserisca subito le risorse che consentono i comuni ad andare avanti. Come citava prima Giulianova ma non solo, rischiano di dover bloccare un'attività di programmazione che è fondamentale per il rilancio dei territori, questo francamente è inaccettabile e si intervenga subito perché non si può andare avanti così. Se non ci dovessero essere delle risposte nell'immediato siete pronti anche a scendere in piazza? Tutte le proteste, tutte le iniziative istituzionali che ogni qual volta sono stati penalizzati i comuni è messa in discussione la garanzia dei servizi per i cittadini, i sindaci lo hanno sempre fatto, tutte le iniziative e quindi le stesse potranno essere messe in campo, adottate assolutamente anche in questo caso perché veramente c'è un grosso rischio per la tenuta di tanti enti locali e quindi per i diritti e i servizi dei cittadini. Il governo questo lo deve capire e deve dare risposte subito. Grazie.